Con la tecnica Assisted Hatching si facilita la fuoriuscita delle cellule embrionali dalla zona pellucida. Questo è un processo che normalmente svolge l'embrione nel concepimento naturale per favorire il suo impianto nell'endometrio. A volte è necessario utilizzare questa tecnica per aiutare l'embrione in questo processo. Ad esempio, utilizziamo Assisted Hatching quando l'ovocita presenta una zona pellucida inspessita, poiché l'embrione potrebbe avere difficoltà a romperlo naturalmente. Questa tecnica viene utilizzata sia con embrioni scongelati perché l'effetto del congelamento e dello scongelamento degli embrioni può indurire la loro zona pellucida, sia con embrioni a cui andremo a eseguire una diagnosi genetica preimpianto, poiché questo facilita l'accesso al trofectoderma dal quale dobbiamo prerevare alcune cellule per l'analisi.